In che forma pratico sciamanesimo? Cerco di rispondere a questa domanda di Milena, partendo dal presupposto che io faccio riferimento a due tradizioni, due culture per me molto importanti, che sono quella nepalese, da una parte, e quella dei maestri andini Kheros, del Perù, quindi i discendenti degli Inca. Sono due forme di sciamanesimo profondamente diverse, perché nel mondo ciò che è racchiuso dentro al termine sciamano, sciamanesimo o sciamanico ha in realtà spesso delle connotazioni territoriali e quindi delle differenze. Ciò non toglie che però i presupposti alla base e le necessità siano simili, diciamo così. La conoscenza di queste due tradizioni mi ha portato poi a sviluppare un contatto diretto col territorio e con quelle che sono delle nostre antiche divinità. Ho scoperto di avere un grande legame con la Dea Madre, che nel mio caso si manifesta attraverso la forma di Iside, di Demetra o di Persephone, principalmente. E quindi quelle conoscenze mi hanno permesso di apprendere come relazionarmi e come interagire anche con queste forze a noi più vicine e, per certi versi, dimenticate. Nello specifico come pratico sciamanesimo? A volte attraverso quelli che sono dei viaggi sciamanici, attraverso la divinazione, attraverso il lavoro di incorporazione della divinità e attraverso quelle che, per comodità, chiamo meditazioni, ma che in realtà meditazioni non sono, ma sono vere e proprie pratiche energetiche. Attraverso la connessione col territorio, attraverso la purificazione, l'armonizzazione. Queste sono un po' le modalità tipiche dello sciamanesimo che io applico. E applico, sempre attraverso la visione dei Keros, anche coi miei clienti. Per cui, quando è necessario, vado a fare un recupero dei frammenti d'anima, vado a fare delle pulizie energetiche, dei riequilibri, l'attivazione dell'autoguarigione, nella relazione, anche coi propri antenati, che non significa che faccio medianità, anche se sarei in grado di farla. Ecco, queste sono un po' le modalità attraverso cui opero, attraverso cerimonie, pratiche, rituali, a seconda di quello che c'è bisogno di fare.